Hola gente, benvenuto a un nuovo vlog su Qui Con Noi. Dov'è che andiamo Vitti? In Sicilia! Yeah, yeah, al mare! C'è anche lui. Ciao, ciao a tutti! Allora, abbiamo fatto un paio di TikTok, sono sudato fradico, fradicio, come si dice? Fradico, no, no. Sono sudato e per questi TikTok che abbiamo fatto insieme a lei, transizioni uno dietro l'altro, insomma, abbiamo fatto quasi un'ora di TikTok. Andiamo a Sciacca e vediamo questo bellissimo posto e dicono che ci sono delle spiagge molto belle. Riprenderemo un matrimonio tra una siciliana e un sudamericano. E' il mio migliore amico che si sposa e io sarò di testimone. E io trucco la sposa. E lei trucca la sposa. Siamo pronti per la partenza, ovviamente i bimbi si fanno sentire. Siamo appena aterrati e è andato tutto bene. Prane che per i bambini che hanno avuto un po' di mal di orecchie. Siamo qua in centro ore 11.00 a mangiare alle 11.00. Tra l'altro c'è anche un concerto di Giussi Ferreri. Abbiamo trovato un po' di traffico, abbiamo trovato un po'... Non abbiamo trovato parcheggio. Ma devo dire che essendo le 11.00 a Milano è un'altra cosa. Qua alle 11.00 l'ambiente è questo. Praticamente pieno di gente. Buongiorno Sicilia. Con banana e pasticciotto. Mi sento già rotolare, ma sto benissimo. Primo giorno di mare in Sicilia. E ovviamente io, primo giorno di Cillo. Una fortuna proprio smisurata. Però preferisco. Così almeno fra due giorni ci sarà il matrimonio e non sto crepando dai dolori. Jackson tranquillo. E lì ci sono i ragazzi Oscar e Vicky che stanno facendo la scultura di Mia con la sabbia. Jackson gazzatissimo con la sabbia e il suo ventaglio favoloso. Scusate. 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 Belle le tette. Oh, le fate Oscar. È malosa. Ah, sono una sirena. Sì, sei una sirena. E poi adesso facciamo così. Qui abbiamo la nostra sposina, futura sposina, perché ancora siamo a meno due. Niente. La lasciamo qua adesso. Faccio tutto il team bride. Vigina Mirjana, basta, non sarà più la mia testimone di notte. Oggi siamo al terzo giorno. Domani c'è l'evento tanto aspettato. Siamo un po' distrutti. Vicky si è appena svegliato e oggi andiamo al mare. Spiaggia San Giorgio. E qui l'acqua è più pulita, con meno pesciolini che ti mordicchiano le gambe. E la spiaggia è più dorata, come potete notare. Però ci sono anche un po' di alghette in più. Qui c'è sempre Jackson che gioca con ciò con cui non dovrebbe giocare. Abbiamo finalmente trovato un cappellino da spiaggia per lui, che era praticamente introvabile. Sia a Milano che qua. Affortunatamente abbiamo trovato Prenatal con l'ultima offerta. Anche perché essendo già a settembre, ormai sono fuori stagione. Jackson, bebe. Questa sera, serata speciale, ci sarà un'altra sorpresa per la sposa. E volevamo condividere con voi i nostri favolosi outfit. Guardate Vicky, lo stile. Un po' di pantaloni qua lunghissimi. Ispirazione del... Questo è il nostro appartamentino. Dell'outfit mamma. Che si è vestita simile, se non un po' più girly, un po' più mamma. Ecco, con il colpettino. E io ho i sandaletti. Questi sono bellissimi. Fatti di svaroschi. Fatti a mano. Fatti a mano. E adesso vi facciamo vedere Gigi. Quanto è bello. Gigi è ovviamente... Con la salopetta. Guarda qua che bello. Che gioca con gli assorbetti della mamma. Io metterò una giacca di jeans. Vicky quella lì blu. E lui è gialli jeans. Papà sarà sempre nero. Con qualcosa di jeans addosso. Ma nel frattempo lui è in bagno. Yeah. Alla gente. Hola. Siamo pronti. In attesa della serenata sicula sotto al balcone di lei. Che succede mamma? Che succede? E gli ride? Stiamo arrivando. E diciamo che non possiamo fare casino. Nulla. Jackson qui. E' bello tranquillo. Vittoria non vede l'ora di sentire che cosa succede. Noi siamo proprio alquanto non consapevole di quello che sta per succedere. Però vediamo. Ok. E' bello. E' bello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stupenda, con i boccoli. Io vengo così. Sì. Lancio un nuovo trend. Amore, tu anche così sei bellissima. Io non volevo farmi la barba, ma dicono che sto bene. Io non volevo farmi la barba. Io non volevo farmi la barba. Io sono emozionato quando è entrato lo sposo, lei quando è entrata la sposa, insomma. Il make-up di lei perfetto e il mio, boh, ancora lei. Comunque, sono già sposi. La chiesa è molto bella, molto grande, qui una sciacca. Adesso andiamo in location. Siamo arrivati in location. Questo è l'ingresso, ragazzi. Ciao. 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 Una coppia bella, vi voglio bere. Grazie. Ok, adesso animazione. Ciao, sono Federica, la sposa, e questo è il mio primo drink. Ciao, sono Federica, la sposa, e questo è il mio, mio ultimo drink. Ciao, io sono German, lo sposo, e questo è il mio primo drink. Sono il mio ultimo drink. Io sono Oscar, e questo è il mio primo drink. Ciao, ciao, sono Oscar, e questo è il mio primo drink. Io sono Oscar, e questo è il mio ultimo drink. Sono Tatiana, e questo è il mio primo drink. Io sono Tatiana, e questo è l'ultimo bicchiere. Siamo quasi agli ultimi giorni qui in Sicilia. Ciao, siamo al penultimo giorno dopo la nostra partenza e il ritorno a Milano. Siamo a Palico, San Giorgio, e ecco, come succede alle nostre spalle. Jackson appena mangiato, noi stiamo per mangiare. Vicky si guarda i tiktok, e nulla. Allora, ci stiamo avvicinando alla casa di Maria, secondo la teoria di Vicky, perché ci sono i quadri ovviamente di Maria, e quindi Maria abita lì, ragazzi. Ed è così che conclude questo video qui a Sciacca, dove abbiamo fatto una mini vacanza di una settimana. Siamo rilassati molto, abbiamo mangiato troppo. Esatto, abbiamo assistito a questo bellissimo matrimonio del mio amico. È stato molto emozionante, è stato molto bello. Dello zio. Esatto, dello zio. E poi, nulla, ci sono comunque delle spiagge molto belle qui. Venite. San Giorgio, San Marco, insomma, ci sono comunque varie spiagge qui. Ecco, intanto lui morre. E nulla, ragazzi. Con questo vi salutiamo, spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Fateci sapere qui sotto chi è siciliano. Siciliano. E se siete già venuti qua a Sciacca. Adios. Bi, che cosa facciamo adesso? Vogliamo fare Giacca. Giacca, non imbraccio la mamma, non le fa stigioni. No, la mamma non la vuole, la mamma non la vuole.